22 ok attenzione al countdown pronti zitti vabbè stanno un po' più largo si entra sulla regia, si è inchiodato non ci credo 22, fa niente ce l'hai il replay? divertito, è libero attenzione 17 2 oddio, allora 21 21 10 6 ti fanno scherzi 20 7 5 8 2 8 20 1 10 alla prima spider 8 i coristi Robert 5 5 alla prima spider 5 alla prima spider 5 alla prima spider 2 1 quando vuoi 5 5 6 ok bravo attenzione alla 1 e adesso alla gara 5 ok 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 Paolo ok Robert ok 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 addosso. Occhio, aspetta Paolo. Uno, piedi, allarga! Va bene? Abbandonati nel bicottero. Tieni nel bicottero, tuoi. Occhio, quattro. Quattro! Cinque. Quattro, tre, due, uno, la spider. Inonda la spider. Attenzione, dieci secondi al fire. Attenzione, pronti al fire. Due, uno, il prossimo fire. Ecco. Attenzione, dieci secondi allestiti per i ballerini davanti. Sei. Eccoli qua, c'è questi qua i ballerini. Occhio, Roby, sono bestie. Otto. Ui! Guarda che camminano i ballerini. Buona. Sei. Otto. Sei. Attenzione. Occhio ai nastri, eh? Cinque secondi ai nastri. Conta la ventuno. Quando vuoi. Quando vuoi. Quando vuoi. Quando vuoi. Otto. C'è una cinque. Attenzione, la spider. Quando vuoi, la spider. Due, uno. Otto, ok? Ma nell'elicottero anche a cammino, ma adesso. C'è la inzegno. Due, due. Libero. Otto. Ok? Libero ilicottero. Due, due, due. Otto. Cinque. Attenzione che il padre non sta girando. Non staccarlo, eh? Come on! Allarga, strano. Cambio, ragazzi, eh? Così, Roby. Ferro. Otto. Stringi il sandino. Yeah. Cinque. Nove. Allarga, pupo. Cinque. Ancora, pupo. Nove. Vieni. Cinque. Così, pupo, stai lì. Nove. Cinque. Dieci secondi alla Spider. Si disfa il duomo. Vincione, quattro, tre, due, uno. Si disfa il duomo, la ventuno. Ok, ventuno. Occhio, nove. Cinque. Stretto, sandi e legno. Otto, attenzione, a tre quaranta girano i nastri. Attenzione, girano i nastri. Attenzione, se vuoi, da ventuno. Ventuno. Più largo, sandi. Dieci. Nice, 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 nice. Dieci. Occhio adesso, eh. Sono veloci i spider adesso. Dieci. Occi i segni. Sei. Attenzione, cinque alla Spider. Quattro, tre, due, uno. Ferma, ferma, spider. Ferma. Otto, allarga un po', Sandy, lei si muove. Cinque. Cinque alla Spider. Attenzione. Tre, due, uno. Quando vuoi la spider? Ventuno. Otto, allarga un po', Sandy, lei si muove. Occhio all'elicottero, stanno in più larghi, non stanno in più. Nice! Occhio allo spider, su una rotazione. Piano 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 piano, piano piano piano, ok bravi. Piano piano piano, ok bravi. Vento un 8, 8. Prendi il pallone ancora. Prendi il pallone, il domino. Nice, nice, nice. Prendi il pallone, sprendi il pallone. Prendi il pallone. Tutto tu, eh? Qui compi attiva! Nice, nice! Prendi il pallone maggiore. Prendi il pallone nel pallone. Attenzione si spostano e non staccarlo la degenerazione. In realtà è il pallone fanno про non staccarlo. Non staccarla, non staccarla. 5, 3, 5, 3, 5, 3, la mano, vai, torna lei, torna lei, ci sono l'ingresso delle bandiere ragazzi, guarda l'elicottero in teni, guarda che bello, 16, c'è l'elicottero, 8, 19, 19, ferma, ferma, non da dietro Robert, non da dietro, non da dietro lei, non da dietro, stai da lato, 4, 5, 5, 5, non prenderla da dietro, stai davanti, ok, 21, 5, 3, 5, 3, 5, Occhio, occhio 21, 21, vengono, cazzo, dopo quella, ecco, sei così, dopo ti sposti, 20, 20, 20, vai in giro largo, 21, vengono, 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 torna su di lui, con la spider, vai, su la spider, su, uccelli con la spider, vai, la spider, vai, su la spider, vai, su, manda un po' cerechio, vai, falla ormont surprincio, go, 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 21, vai, in onda il toldo, bella, 3, no, no, Christina, Via Robert! 18, fermo! È roba tua adesso Galli eh! Ok, ciao, buon lavoro, buon lavoro! Bernardino, buon lavoro, buon lavoro! Grazie! ver. sehr buona, buon lavoro! Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.